Ciao bambini belli, buongiorno, come state? Spero che ieri abbiate passato una bellissima giornata, una bellissima festa del bambino. Allora, oggi è martedì 2 giugno. La settimana scorsa abbiamo parlato dei giorni della settimana e dei tempi della giornata, di com'è suddivisa la giornata. Allora, continuiamo con il nostro ripasso, con i mesi dell'anno. Vi condivido un'immagine. Allora, leggiamo cosa c'è scritto qui. I mesi. Un anno è formato da 12 mesi. Vi ricordate che noi sempre utilizzavamo la ruota, dove c'era la ruota ciclica, per spiegare sempre che quando inizia, poi finisce, poi rinizia. Con i mesi è lo stesso. Quindi, un anno è formato da 12 mesi. Gennaio, vediamo quali sono. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Ok? Quindi sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Ok? Allora, questo esercizio ci dice scrivi accanto a ogni mese un numero da uno a dodici per ordinarli dal primo all'ultimo. Questi mesi sono in disordine e noi dobbiamo metterli in ordine. accanto, in questa parte, alla destra, dobbiamo scrivere i numeri dall'uno a dodici per metterli in ordine. Quindi, il numero uno sarà gennaio, il primo mese dell'anno. Ok? Ok? Allora, questo esercizio ci abbiamo i due mesi del anno in disordine. Abbiamo che ponerlo in ordine. Come facciamo? Abbiamo il numero del uno al doce, in ordine, al lato di cada mes. Per esempio, il numero uno è gennaio, il numero due è febbraio, e così tutti i mesi. Ok? Ok? Allora, qui dice, anche l'anno si rappresenta con una ruota perché è un tempo ciclico che si ripete di continuo, come le dite anteriormente. E l'anno è una ruota, no? Perché? Perché è un tempo ciclico che si ripete cada vez. ossia termina disieme e in piensa, o travese, il nero, da, 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 da. Ora, dice l'esercizio numero due. osserva la seguente ruota e completala scrivendo il nome dei mesi. Quindi accanto ad ogni immagine dobbiamo scrivere il mese. Allora iniziamo da gennaio che è questo pupazzo di neve. Gennaio è rappresentato da un pupazzo di neve perché in Italia e in Europa in generale fa ancora freddo e c'è anche la neve. Ok, in enero, questo iniziamo con inero. Qui è scrivendo i mesi dove sta questo muñeco di neve perché in enero, ovviamente, fa il frio in Italia e in Europa quindi c'è la neve. Poi c'è febbraio, c'è il carnevale, marzo la pioggia, aprile l'uovo di Pasqua, maggio i fiori, floresce, rosa arboles, giugno la frutta, si produce moltissima frutta con il caldo, luglio con le spighe, la raccolta del grano, agosto andiamo al mare, settembre raccogliamo l'uva e facciamo il vino, ottobre si mangiano le castagne, le castagne che sono dei frutti degli alberi che si fanno al forno, novembre comincia il freddo e cadono le foglie e dicembre il mese di Natale. Ok? Quindi qua scriviamo i mesi dell'anno. Vediamo cosa ci dici in questa parte destra. Lo sapevi che non tutti i mesi hanno la stessa durata, non tutti i mesi hanno la stessa durata, non tutti i mesi hanno la stessa durata, non alcuni hanno più o alcuni hanno meno. Per esempio, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Di 28 cene uno tutti gli altri ne hanno 31. Questa è una piccola orazione che ci facciano a noi in Italia per apprendere quanti giorni ha ogni mese. Dice, 30 giorni ha la stessa durata in novembre, avril, junio e settembre. Con 28 giorni ha solo uno, tutti gli altri hanno 31 giorni. 28 giorni è febrero, ovviamente, a parte quando è in un anno bisesto. Ok? In quel senso era una curiosità. Perfetto, bambini, allora potete fare questo bel lavoretto e mi inviate una foto. Poi da una seressa e mi invia una foto. Ok? Ciao bambini, buona giornata!